faccio sempre degli spuntini pre e post allenamento e cerco di rimanere leggero lì perché sono i momenti diciamo proprio prima dell'allenamento però di solito mangio panni marmellata cosa del genere cerco di bere qualcosa durante l'allenamento prendo degli integratori a base di magari carboidrati o dei gel con degli zuccheri in modo che sostengano l'allenamento e dopo allenamento rimangio qualcos'altro per ricaricare un po il glicogeno quindi un sacco di cose ma mi servono